Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore colorati di bianco, la neve non ha scoraggiato nessuno, tutt'altro, ha rappresentato un richiamo ancora più irresistibile. Partenza col botto dunque venerdì mattina per la ventitreesima edizione di quella che è, insieme al raduno internazionale dello spazzacamino, la manifestazione più importante della Valle Vigezzo. E così fin dalle 9.30 le bancarelle sono state prese d'assalto da tantissimi turisti, giunti in Valle Vigezzo in occasione della tre giorni di questi mercatini che sono fra i più grandi d'Europa. A stupire non è solo il numero degli espositori, quest'anno quasi 200, la loro maestria e la qualità delle proposte artigianali che si trovano a lungo il percorso sono infatti motivi che spingono migliaia di persone a scegliere il mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore. Ad aggiungere fascino e a caricare di suggestioni la prima giornata di apertura ci si è messa poi la neve, caduta in mattinata, e che ha regalato una pennellata di bianco ad una location, quella del centro storico di Santa Maria Maggiore, già di per sé magica. Moltissime poi le presenze anche nella giornata di oggi. A rendere unici mercatini di Santa Maria Maggiore sono anche i numerosi eventi collaterali e i punti di ristoro. Il mercatino poi presenta una direzione consigliata grazie ad una cartellonistica potenziata per non perdere nemmeno una bancarella. Domani ultime visite per un'altra giornata da tutto esaurito. Grazie a tutti!